Oggi diamo l'avvio ufficiale all'intergruppo energia nucleare, un intergruppo che ha visto la visione di tutti i gruppi parlamentari tra i 5 stelle e la sinistra estrema per riporre al centro dell'attenzione del dibattito politico l'energia nucleare. Dopo questa crisi energetica che ha dimostrato che il nostro mix energetico era insufficiente, io credo che sia giunto il momento di riparlare anche di energia nucleare perché noi informiamo ai paesi stranieri i nostri migliori ingegneri, la nostra migliore tecnologia e le risorse delle società energetiche più importanti del nostro paese, l'idefollia che la ricerca non sia medievitali nel nostro paese in Italia. Quindi dobbiamo riportare centrale la discussione della politica dell'energia nucleare sapendo che nel frattempo sono state fatte delle importanti innovazioni in materia e quindi siamo pronti per esempio tra pochi anni alla fusione o al riutilizzo delle scorie radioattive per quanto riguarda la produzione di nuova energia nucleare. Insomma la ricerca è andata avanti e tessuto che il nostro paese ne sia completamente fuori.